Salve a tutti amici di Campania Nel Pallone. Questa sera alla Dacia Arena il Napoli affronterà l'Udinese nel Monday Night della quarta giornata di Serie A. Il fischio d'inizio alle ore 20.45. Una grande occasione per gli azzurri che dopo quattro giornate di campionato hanno la possibilità di portarsi da soli in testa alla classifica. Ma si tratta di un momento nel quale ci sarà da stringere i denti considerato che il Napoli dopo il grande dispendio energetico di giovedì all'Eister si appresta ad affrontare la seconda di tre trasferte nel giro di soli sette giorni. Contro il Leicester gli uomini di Spalletti hanno fornito un'altra significativa prova di forza considerato che dopo essere stati sotto di due reti fino al 69esimo minuto hanno poi ottenuto un pareggio molto prezioso grazie ad una reazione di grande personalità. Al King Power Stadium anche un qualcosa in più del pareggio sarebbe stato ampiamente meritato considerato che il Napoli ha creato davvero tanto e ha in pratica dominato il match mantenendo il predominio territoriale per quasi gli interi 90 minuti. E certamente l'essere riusciti ad imporre il proprio gioco sul campo di una delle big della Premier League è grande motivo di orgoglio. E' nuovamente balzata all'occhio la grande capacità di reazione della squadra così come in occasione delle tre partite vinte in campionato contro Venezia, Genoa e Juventus. Ciò è un qualcosa che è spesso mancato nelle stagioni precedenti e che adesso ci auguriamo possa diventare sempre di più un marchio di fabbrica del Napoli di Luciano Spalletti. E' evidente come il tecnico toscano stia entrando nella mente dei suoi calciatori e i margini di miglioramento sono ancora ampi. L'auspicio è che con il suo lavoro meticoloso e attento alla cura di ogni singolo dettaglio ci possano essere dei continui passi in avanti. Dunque è un Napoli che è ora chiamato a dare seguito ad una costante progressione sotto vari aspetti. Di fronte ci sarà un Udinese che ha avuto un ottimo inizio di campionato ben sette punti conquistati frutto del pareggio contro la Juventus e delle due vittorie contro Venezia e Spezia. E sappiamo come la compagine friulana sia una squadra capace di creare molte insidie alle big tra le muramiche. La formazione guidata da Gotti in questo tipo di gare è solita. adottare un baricentro molto basso per provare a chiudere ogni spazio e per non concedere punti di riferimento agli attacchi avversari per poi ripartire in contropiede. Infatti gli azzurri dovranno fare molta attenzione alle ripartenze perché l'Udinese ha tra le proprie fila degli ottimi contropiedisti. Per quanto riguarda l'undici titolare con cui gli azzurri scenderanno in campo sono pochi dubbi per Spalletti che dovrebbe confermare almeno i nove undicesimi della formazione che è stata schierata nell'ultima di campionato contro la Juventus. Tra i pali ci sarà Ospina in difesa, tornerà Mario Rui che dunque andrà ad occupare la corsia di sinistra e poi a completare il reparto ci sarà Di Lorenzo sulla fascia destra e la coppia Manolas-Culibali al centro. In mediana si va verso la conferma del duo formato da Fabian Ruiz e d'Anguissà in virtù anche delle assenze di Demme e Lobotka e l'unico ballottaggio, l'unico vero e proprio dubbio riguarda l'attacco dove Adamunas dopo le prove decisamente convincenti offerte da subentrato scalpita per una maglia da titolare nel tridente alle spalle della punta ma tuttavia al momento il favorito resta Politano che dunque dovrebbe andare a comporre il trio insieme a Capitan Lorenzo Insigne sulla sinistra e a Zielinski nella posizione di trequartista che dunque tornerà dal primo minuto anche in campionato e a guidare l'attacco come sempre Victor Rosimane e dunque detto questo è tutto auguro una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Campania nel pallone dandovi appuntamento ai prossimi aggiornamenti